Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Una buona notizia per gli abitanti di Sant'Egidio alla Vibrata. È in arrivo infatti la fibra ottica su tutto il territorio. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Elicio Romandini, che ripercorre anche i vari step che hanno portato al completamento di un progetto avviato già da qualche anno dalla sua amministrazione comunale. Un primo step c'è stato già un paio di anni fa, dove noi abbiamo comunque fatto realizzare da Infratel la fibra ottica che arrivava fino agli armadietti, e ne sono 23 per tutto il territorio di Sant'Egidio. Questa volta invece il progetto riguarda la percorrenza su tutte le strade comunali, provinciali e anche statali di tutto il territorio di Sant'Egidio. È un investimento fatto dal concessionario che è Infratel, che è un'azienda di Stato appaltato a Open Fiber. Ci siamo già incontrati nei giorni scorsi e i lavori inizieranno. Adesso il tempo neanche permette, ma insomma per i primi di giugno ci saranno gli primi scavi, dove è necessario passare sotto le nostre strade comunali, provinciali e statali, e l'arresto verrà tutto comunque realizzato aereo attraverso o canalizzazioni esistenti interrate già, oppure attraverso aereo, condotte aeree. I lavori relativi alla fibra hanno costretto il Comune a rivedere il calendario riguardante invece il rifacimento degli asfalti. Come già saprete abbiamo avuto un finanziamento di 800 mila euro e riprenderemo, abbiamo fatto la frazione Paolo Antonio, ma arriveremo dappertutto. Quindi veramente contento perché insomma viaggeremo a veramente tanti megabyte di velocità rispetto a prima, insomma dove le abitazioni avevano via wireless qualche megabyte, invece parliamo adesso di centinaia o migliaia di megabyte.